Un'ora al buio per salvare il pianeta. In diretta su TRM Network l'evento di punta in Italia dell'Air Tower. Sabato 30 marzo lo spegnimento dalle 20.30 di uno dei luoghi simbolo della città dei Sassi, piazza San Pietro Caveoso e la rupe dell'Idris, con una prima esibizione dal vivo aperta a tutti del pianista Danilo Rea sulla proiezione di immagini di bellezze della natura e satellitari in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Il programma proseguirà alle 21.15 con l'Air Tower Concert all'Auditorium Gervasio, sempre con la partecipazione di Rea in collaborazione col Conservatorio Duni. Sul palco il Duni Jazz Rio e Mario Rosini col Duni Jazz Joy. Sono già centinaia i comuni che hanno aderito all'Ora della Terra la manifestazione mondiale indetta dal WWF che chiede di spegnere per un'ora le luci per richiamare l'attenzione sui cambiamenti climatici e sul valore della tutela del pianeta e delle sue risorse. L'evento lo scorso anno ha fatto registrare 188 paesi coinvolti, 18.000 monumenti storici o simboli spenti, oltre 3 miliardi di messaggi vecolati sui social. L'Ora della Terra è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del pianeta e un grido per fermare la distruzione. Insieme è possibile. Credo che la scelta sia obbligata per avere a livello mondiale l'Italia come città di punta. Quest'anno Matera credo che sia una scelta obbligata, è la capitale della cultura, non solo, ma aggiungo che a vicino Matera, come sapete, c'è anche un meraviglioso istituto di geodesia nazionale che è dell'Agenzia Spaziale Italiana con cui collaboriamo per questo evento. L'Agenzia Spaziale Italiana, come tutte le agenzie internazionali che si occupano di spazio, non si stanno occupando solo dello spazio esterno alla Terra, ma si stanno occupando anche di come sta la Terra e grazie ai tantissimi satelliti da telerilevamento siamo in grado di conoscere moltissime cose sul nostro pianeta che non avevamo mai conosciuto in precedenza. Quindi come si stanno facendo ricerche e avanzamenti per quanto riguarda Giove, Saturno, Marte, Venere, così le grandi agenzie si stanno occupando anche del nostro pianeta per conoscere meglio come funziona e come dobbiamo darci da fare per salvarlo. È inutile che vi dica che tutte le agenzie spaziali internazionali sono vicino a noi nella lotta sul cambiamento, contro il cambiamento climatico. La situazione è drammatica, ma la gente se ne rende conto? Io credo che la gente in qualche modo si stia rendendo conto che qualcosa sta cambiando. Il cambiamento climatico, come tutti i cambiamenti del sistema Terra, ha anche certe volte degli andamenti lenti. Purtroppo ha anche dei punti critici, quelli che vengono chiamati effetti soglia. Quando si sorpassano questi punti critici, la comunità scientifica ci dice con grande chiarezza che con ogni probabilità la capacità dell'intervento umano di ristabilire la situazione precedente sarà molto ma molto difficile, oserei dire impossibile. Visto e considerato che nonostante tutti gli allarmi e la meravigliosa mobilitazione degli adolescenti con l'iniziativa di questa straordinaria studentessa svedese che è Greta Thunberg, la reazione politica tende ancora drammaticamente all'inazione, cioè a non far nulla. Credo che noi non ci possiamo più permettere di perdere tempo. E quindi Air Tower, che il WF oramai fa da 12 anni, è una grande mobilitazione planetaria perché ovviamente questi spegnimenti simbolici hanno luogo nell'arco dell'intera giornata su tutta la Terra. Quindi abbiamo l'opportunità di mobilitare come è successo l'anno scorso che soltanto dando un indicatore che sono le segnalazioni sui social ci sono state oltre 3 miliardi di segnalazioni, quindi immaginatevi il coinvolgimento dell'opinione pubblica. Certo, dal coinvolgimento, dalla sensibilizzazione, passare all'azione non è facile perché ovviamente passare all'azione vuol dire anche cambiare una serie di comportamenti. Noi siamo di fronte a una situazione molto molto problematica perché è una sfida epocale. Dobbiamo cambiare un sistema di vita che si è basata sull'economia dei combustibili fossili. L'economia attuale si è basata tutta sui combustibili fossili, quindi petrolio, gas naturale e carbone. Tutti questi combustibili fossili che meravigliosamente sono stati tenuti nel nostro pianeta per storie geologiche straordinarie producono anidride carbonica e quindi l'immissione di questo carbonio nell'atmosfera incrementa l'effetto serra naturale. Questo effetto serra naturale è un po' un effetto serra, quindi intrappola i raggi infrarossi che dovrebbero ritornare da fuori e modificano l'intera dinamica energetica dell'atmosfera. Modificando l'intera dinamica energetica dell'atmosfera noi abbiamo addirittura delle estremizzazioni di fenomeni meteorici. Quindi tutto quello che già è sempre avvenuto nelle famose quattro stagioni noi l'abbiamo in maniera amplificata e abbiamo addirittura degli spostamenti significativi di meccanismi climatici che fino ad oggi più o meno erano andati in una maniera un po' stabilizzata. Noi oggi ci troviamo di fronte a questa grande sfida. Da una parte mantenere una terra stabilizzata rispetto al periodo geologico che stiamo vivendo e dall'altra portarla in una terra sempre molto calda che nel passato rispetto agli studi che sono stati fatti sui paleoclimi, i climi del passato sono preoccupanti perché noi abbiamo situazioni che si potrebbero avvicinare a 14-17 milioni di anni fa nella metà del mio scene e vi posso garantire ma penso che tutti coloro che ci stanno ascoltando lo sanno benissimo non esisteva nessun ominide sulla terra 14-17 milioni di anni fa. Noi abbiamo cominciato i primi ominidi intorno a 6 milioni di anni fa la specie umana nostra è il sapiens come noi ci riteniamo abbiamo sì e no 200-250 mila anni e oggi siamo la bellezza di 7,6 miliardi sulla terra la previsione al 2050 nella variante media delle Nazioni Unite ci parla di 9 miliardi e 700 milioni se immaginate io sono nato nel 1953, quando sono nato io non c'erano ancora 3 miliardi di esseri umani sulla terra quindi nella mia vita io ho visto più che raddoppiare il numero di esseri umani il che vuol dire richiesta di tutto, richiesta di cibo, richiesta di energia, richiesta di infrastrutture, richiesta di case cioè dobbiamo renderci conto che le risorse non sono infinite che il pianeta ha dei limiti biofisici ben definiti e Air Tower è proprio una grande mobilitazione per svegliarsi e dire signori wake up, svegliamoci cerchiamo di fare qualcosa e dal giorno dopo noi ci svegliamo e dal nostro piccolo cosa dobbiamo cominciare a fare o a non fare? io la cosa che indicherei sono due in particolare una riguarda i mezzi di trasporto quindi meno automobili utilizziamo meglio è e spesso utilizziamo le automobili senza senso altra cosa è cominciare a ragionare su tutto il proprio utilizzo di risorse energetiche durante l'arco della giornata anche in campo alimentare ed è inutile che vi dica che oramai i migliori studi ci fanno presente quello che già sapevamo, immaginavamo che la dieta carnea è una dieta che sicuramente produce più anidride carbonica per tutto il percorso della filiera che conduce all'alimentazione di tipo carnea è inutile che vi dica che la cosa numero uno che dovrebbero fare tutti i paesi del mondo è avviare i percorsi di decarbonizzazione immediati cioè noi dobbiamo eliminare l'uso dei combustibili fossili e oggi io credo che la cosa più importante è fare in modo che quello che è stato il processo che la natura ha, che è un processo circolare dove il rifiuto non esiste debba essere ricondotto ad essere un processo circolare perché noi con la nostra attività economica, produttiva e industriale l'abbiamo reso un processo lineare nei processi lineari tu hai uno scarto, un rifiuto, un inquinamento sia esso solido, liquido o gassoso e questo non può più avvenire perché non ce lo possiamo più permettere non solo le buone pratiche per salvare il pianeta, anche la musica può salvare il mondo l'hanno detto i più grandi compositori, direttori d'orchestra, musicisti, Abbato, Bernstein lo dico anch'io oggi il Conservatorio di Uniti Matera sarà insieme a questa grandissima iniziativa mondiale quindi hanno scelto Matera come capitale europeo della cultura per parlare e sollecitare la gente sui cambiamenti climatici in collaborazione con il WWF il Conservatorio offre insieme al grande pianista jazz che è uno Danilo Rea e insieme a Stefano Bollani sono i più importanti pianisti jazz in Italia un concerto che sarà in auditorium alle 21.15 e più tardi qua su questo sagrato con Danilo Rea che eseguirà un pezzo da lui composto proprio per l'occasione Chi si esibisce sul palco dell'auditorium insieme a Rea, gli allievi del Conservatorio? Questa sarà l'occasione per far conoscere al grande pubblico perché ci sarà anche una diretta televisiva il nostro settore jazz nato da dieci anni con la mia prima gestione abbiamo attivato le classi di batteria jazz, pianavorte jazz, due di canto jazz basso elettrico e chitarra elettrica e ci saranno due di questi docenti che sono andati con Danilo Rea e sono Luigi Mascia di docente di chitarra jazz e per Luigi Balducci basso elettrico mentre Mario Rosini con un suo gruppo che è nato parallelamente all'attività del Conservatorio all'attività didattica quindi privatamente e il Duny Jazz Shire che sono otto voci di allievi del canto jazz con Mario Rosini che già conosciamo molto bene sul panorama musicale italiano eseguiranno musica di Cole Porter, di Gershwin e di Mario Rosini stesso Il WWF sceglie Matera e di conseguenza si danno queste grandi opportunità a chi vive e lavora qui? In effetti è un anno straordinario il 2019 non mi aspettavo tutto ciò e tutti chiedono di venire a Matera, le più grandi organizzazioni e molti chiedono del Conservatorio di avere un contributo dal Conservatorio vuol dire che abbiamo lavorato bene negli anni e ci conoscono dappertutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti